Io sono quello che ha superato l'estate Rai, Mediaset, Scarby, ok? Anyway, non bene? Io sono un vecchio nel corpo di un giovane. What the fuck? La verità non è per tutti. What time? Io esco dalla scuola di Dill Carnegie. Io sono molto bravo nell'immobiliare. Tanta vasellina. E il cervello è uno strumento meraviglioso. Solo Dio ha l'interruttore della 380. Che cos'è la reincarnazione? La vita nella quale viviamo è come un videogioco. Gli esseri umani non hanno ancora capito questo. Come il concetto della rana bollita. Purtroppo non è naturale l'invecchiare. Ci hanno trasformato in lavatrici. Ops, avvengono dei rese. Non esiste la destra. Io ho provato ad avvisarvi. In pochi l'hanno capito. Non esiste la sinistra. Perché voglio chiudere la carriera in bellezza. Io mi sono esposto contro Papa Bergoglio. Contro... Perché io nasco come imprenditore. Non nasco come giornalista. Io non sono un giornalista. Anche se mi dicono che sono bravissimo. Combatti con gay keeper governativi. Combatti con i servizi. Ma abbandono le ciance. Anyway. YouTube è gestito dal governo italiano. Incredibile. Vittorio Sgarbi è un gay keeper governativo. Mi ha dato due strike. Sicuramente vi paga bene il governo per fare questo lavoro. Complimenti. Ma allora Morris dici che nei libri di scuola ci hanno mentito. Certo. Qual è la tua risposta? Scimmia. Cioè, i primi anni vincerà il male perché il diavolo è la manovalanza di Dio. Chi ha inventato il diavolo? Satan. L'ha inventato lui. È una squadra speciale che li utilizza per pulire il pianeta. Dio misura l'amore che avete nel vostro cuore. Metterti in contatto con questa entità che ti aiuterà. Sì, infatti io direi una cosa, Morris. Io parlo perfettamente inglese. La NASA è l'acronimo di Satan. Ragazzi, usate il cervello. Ecco perché persone come me sono la feccia della feccia della feccia. Un delinquente. Dovete paragonarmi al contadino. Io ho un difetto che riesco a tenere attaccate allo schermo le persone dall'inizio fino alla fine. Perché io, a differenza vostra, sono stato in politica. Mi hanno clonato per salvare l'umanità. Io parlerei ore di queste cose qua. Vi farò una confessione oggi. Sono stracensurati. Mi spengono ovunque. Gatekeeper governativi. Provo a lavorare contro il governo e vediamo se dentro in determinati posti. Allora riesco a fare quello che so fare. Con tutti i parassiti che ci sono. Nel 2025 la Terra vibrerà. Chi mi ama si ricorderà di quello che ho fatto. Perché questo documentario diventerà immortale. Sono uno che parla di alieni. Ti parla di extraterrestri. Nei testi ebraici si parla di forma della Terra diversa da quella che ci hanno segnato a scuola. Il satanismo. Il simbolismo. Le persone sono come in un pollaio. Alle piramidi. A qualsiasi governo non piacciono le persone come me. L'occhio. Il grande architetto. Io, come dico sempre, ogni live, la ogni risposta l'ho trovata in Antartide. La forma della Terra. Sì, assolutamente. Io, l'ultima occasione dove mi presento al pubblico in Italia, prima che arrivi la guerra. Perché per poter scoprire la verità. E dopo c'è Antartide. Ma l'Antartide è un segreto. Morris è venuto dal Costa Rica. Io vengo dall'Inghilterra. Nel momento in cui ti stacchi dal Matrix. Perché vedi, è un po' come... Morris, quale lavoro consigli oggi a un ragazzo per diventare come te? Ti direi non sprecare tempo all'università. Studia le lingue. By the way. Studia almeno l'inglese. Io sono nato con David Bauer, con Freddy May. David Bowie. Perché soltanto a chi avrà il cosetto mortgage free. Mortgage free. Come il film Snoopyers. Lo spagnolo è nella matematica. Avrei bisogno di questi tre strumenti principalmente. Essere la pecora nera vuol dire essere una pecora pensante. Chi avrà l'accesso ad Antartide non può tornare più indietro. Gli esseri umani non sono pronti a capire cosa sta accadendo dentro Antartide. Che cosa è Antartide. Al di fuori di questo muro di ghiaccio, di questo sistema di sicurezza, è molto più grande. E chi ha orecchie per ascoltare, fate i vostri studi e capirete che siamo dentro un piccolo recinto. Ok. Mi è piaciuta questa barzelletta perché la mia domanda è chi è il grande architetto? È il programmatore di questa simulazione? È un dio fisico? Morris, tu tornerai in Italia a fare eventi dal vivo? Preferisco dedicare il mio tempo in un piano B, che è un progetto in Costa Rica, dove avremo tutto. Animali, case, tetto. Perché lassù non vogliono che le verità vengano svelate. Il governo mi odia. Dopo le mura di ghiaccio. Quando Dio è con noi, non siamo la maggioranza. E vinceremo anche questa guerra. Vi mando forte abbraccio. Bye bye. Thank you for watching.